Buongiorno, nella Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Milano di venerdì 18 novembre la direttrice Giulia Amato, la direttrice centrale della direzione Cultura, ha presentato l'organigramma e le competenze del settore. Allora, intanto la macchina comunale è stata interamente riorganizzata, sono state create quattro aree, l'area Servizi al Cittadino, l'area Territorio, l'area Innovazione, Risorse e Progetti Speciali e l'area Economia e Sviluppo. E la direzione centrale Cultura è parte di quest'ultima area, area Economia e Sviluppo, proprio per significare che la cultura è importante, la cultura e la creatività sono importanti i motori di sviluppo della nostra città, di sviluppo anche economico. Sono quindi state date delle linee generali che poi verranno approfondite in incontri specifici in Commissione Cultura su ciascun singolo settore, sono state date delle linee generali e sono stati presentati i direttori dei singoli settori e servizi. Allora, intanto quanti sono i settori? Sono cinque principalmente, settore musei, settore biblioteche, settore spettacolo mode design, servizio mostre e l'ultima, la nuova entrata, settore valorizzazione, patrimonio artistico e sviluppo servizi innovativi. I direttori sono, per il settore musei, dottor Salsi, per il servizio mostre, dottor Piraina, per il settore biblioteche era presente il dottor Ramponi, in rappresentanza del dottor Pirola e per il settore valorizzazione, patrimonio artistico e sviluppo servizi, la dottoressa Galimberti. Il settore spettacolo è ancora privo di un direttore che verrà definito nel prossimo periodo, è stata comunque definita la struttura del settore e le diverse competenze. In particolare il settore spettacolo mode design avrà quattro servizi, servizio teatro e danza, servizio musica, servizio moda design ed eventi e l'ufficio cinema. C'è una novità anche per il settore spettacolo relativamente alla fabbrica del vapore, che è sempre stata una competenza del settore tempo libero e giovani, mentre da d'ora in poi ci sarà un progressivo, è un progetto, è stato definito come un progetto fabbrica del vapore, quindi è ancora un work in progress, ci sarà un progressivo trasferimento di competenze dal settore tempo libero. In particolare per quanto riguarda i giovani artisti. L'ultima novità, il nuovo settore, appunto, quello sulla valorizzazione patrimonio artistico e servizi innovativi, in futuro avrà una serie di competenze che gli verranno trasferite in materia agricola e rurale, proprio in vista di Expo 2015. Come vi dicevo all'inizio, verranno creati degli incontri ad hoc in Commissione Cultura, in cui verranno presentati servizio per servizio le competenze, le linee di sviluppo in future, quindi vi terremo aggiornati. Per ora è tutto, vi salutiamo. Per ora è tutto, vi salutiamo.